... perché Loro Ortega si fa insidiosa addirittura nei confronti di Alba! Sono amicinissimi! Contatto! È il contatto! No, no! Non chiudo gli occhi! Non chiudo gli occhi, no! Non chiudo gli occhi! No, no! Oh! Buongiorno! Dai poi! Ma che vuoi? È passato un anno ma la vita va avanti, capito? Perché non smetti di consegnare le pizze? Tu puoi fare qualunque cosa! Ho fatto un casino! Che hai fatto? Ho iniziato a studiare da un annetto. Dove? A Milano, alla Naba. Ma dai, anche io ho fatto la Naba! E io non sapevo che tu cattassi! Diciamo che cantiamo un po' insieme. Prontà? No! 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 No!